Filippo, stasera si è giocato una partita molto particolare, un amichevole contro una nazionale che in questo momento sta vivendo qualcosa di terribile, di angusciante per tutto il mondo. Ti credo che effetto vi ha fatto giocare contro questi giocatori, contro questi uomini in una cornice per lo più giallo-blu, tutte queste bandiere ucraine. È stato emozionante dagli spalti, immagino anche in campo. Sì, è stata una serata molto emozionante, abbiamo fatto questa partita dove all'inizio ci sono stati anche gli inni, lì è stato un momento molto toccante. Noi abbiamo fatto la nostra parte ospitando l'Ucraina qua a casa nostra e quindi siamo molto felici di aver potuto dare il nostro contributo nella loro preparazione al mondiale. ripeto, da parte di tutti c'è stata grande emozione, grande solidarietà e quindi ci auguriamo ovviamente che tutto questo possa finire presto perché è un qualcosa di drammatico. Come dicevi giustamente l'importante era fare solidarietà, beneficenza a questo popolo che sta soffrendo in questo momento. Vi chiedo quanto l'avete sentito questa esigenza anche voi internamente. Sì, ripeto, è stata una serata ricca di emozioni. L'ultima settimana poter disputare anche questo tipo di gare è stata una cosa emozionante per tutti, per la squadra, per il pubblico che ha seguito questa gara. Quindi siamo molto contenti di aver ospitato l'Ucraina qua e di aver fatto questa partita di beneficenza e di aver dato il nostro piccolo contributo alla causa. Un'emozione aggiuntiva alle tante emozioni che questo campionato, questa stagione ci ha regalato con la salvezza, la festa di sabato scorso con i nostri tifosi. Ho chiesto un po' a tutti, una fotografia, un momento, un'immagine da portarvi dentro di questa annata incredibile, di questa impresa che avete fatto. La tua qual è? Sicuramente l'ultima partita in casa è stata un'emozione perché poter fare la festa davanti ai nostri tifosi era quello che abbiamo sempre sognato dalla prima volta che ci siamo incontrati il primo giorno di ritiro. Quindi è stato un anno pieno di emozioni perché la squadra non ha mai navigato nelle parti basse della classifica e questo penso che tutto l'ambiente, tutto il pubblico ce lo riconosce perché siamo riusciti a rimanere sempre in zone della classifica dignitose e questo ci ha permesso di vivere un campionato pieno di soddisfazioni. Siamo andati a vincere contro squadre importantissime e chiudere la stagione a tre giornate dalla fine con la salvezza è un qualcosa di incredibile che a inizio anno tutti ci avremmo messo la firma. Quindi è stato un anno veramente importante sotto tutti i punti di vista. Senti l'abbiamo rimarcato spesso con i mister l'importanza del gruppo perché quest'anno più che mai si è vista un'unità di intenti comunque tutti i giocatori sono stati alla fine utili in vari modi per questa salvezza. Ti chiedo appunto se e quanto è stata importante questa unità che avete avuto all'interno dello spogliatoio. Sì il gruppo è stato meraviglioso perché per tanti noi la Serie A era la prima volta che l'affrontavamo e quindi potevamo magari avere dei momenti di difficoltà che sicuramente abbiamo avuto ma l'abbiamo sempre vissuti con entusiasmo con l'appoggio dei nostri tifosi e questo ha fatto sì che la squadra è riuscita a salvarsi ed è stato un qualcosa di importante per tutti noi e quindi siamo fieri della stagione che abbiamo fatto e sabato ci aspetta l'ultima partita l'affronteremo al meglio e poi meritate vacanze.